L'intera vallata del Casentino saluterà domani pomeriggio per l'ultima volta Dama Danzo, il 21enne gambiese morto annegato lo scorso mercoledì nel torrente Archiano a Partina nel comune di Bibbiena. Si terrà infatti alle 17.30 al teatro Dovizi di Bibbiena un incontro aperto alla cittadinanza per ricordare il ragazzo. A Dama era uno di noi, si legge sulla pagina Facebook dell'associazione Taoma che da due anni aveva accolto il giovane. Il nostro Adama adesso non c'è più e ora non c'è più niente da dire, abbiamo solo bisogno di stare insieme per ricordarlo. Per questo domenica 22 alle 17.30 ci ritroveremo al teatro Dovizi semplicemente per condividere insieme il ricordo. La Salma sarà poi rimpatriata nei prossimi giorni, lunedì sarà portata a Milano e da lì dopo qualche giorno partirà verso l'Africa, proprio da dove Adama era fuggito cercando una vita migliore. Dall'Inghilterra intanto è arrivato il fratello che accompagnerà la Salma durante il rimpatro in Gambia, dopo la celebrazione del rito musulmano e dopo l'ultimo saluto a Bibbiena. La storia di Adama ha toccato il cuore dell'intera vallata del Casentino che dal giorno del drama si è stretta nel dolore e nel ricordo di quel ragazzo pieno di vita. Il 22enne da poco aveva superato l'esame di terza media, si sarebbe voluto iscrivere al liceo per continuare così ad imparare ma anche per costruirsi un futuro, forse proprio all'interno di quella vallata in cui si era integrato perfettamente.